Quando io ho sentito Adamo morto, non mi credo, ma sento male, io sento male, mi sento male, però ora è difficile fare tutto. Non si danno pace gli amici di Adam Adanzo, 21 anni del Gambia, morto annegato nel torrente Archiano, un corso d'acqua del Casentino che in questo punto si allarga in un invaso la diga di Gambino. Si era tuffato dopo le 17, insieme ad alcuni amici non è mai riemerso. Il suo corpo è stato recuperato dai sommozzatori arrivati da Livorno dopo le 22. Lui ha provato due volte ad attraversare il mare, la prima volta il barcone si è rovesciato, lui raccontava che sono morte più di 40 donne con lui perché non sapevano nuotare e lui si è salvato perché sapeva nuotare, è uno dei pochi che sapeva nuotare. Adama, accolto dall'associazione Taoma di Bibiena, aveva superato a giugno gli esami di terza media, si era ambientato e stava iniziando a costruirsi un futuro. Uno dei ragazzi si è buttato giù nell'acqua, solo che era profondissima, hanno detto nei punti anche più bassi più di tre metri l'acqua e lui ha detto io andavo giù con lui, lui mi tirava giù e noi non sapevamo come fare e quindi non sono riusciti a salvarlo. Lui è stato di nostra fiducia così tanto che è stato uno dei due, lui è l'altro ragazzo che ha cercato di salvarlo, quello è cui abbiamo fatto un piccolo contratto di collaborazione con noi, per cui era quasi diventato operatore, ha preso il primo livello di italiano e adesso si era appena diplomato alle scuole medie e ci eravamo organizzati ora, proprio adesso, sono le 11, avrei dovuto chiamare adesso a quest'ora un'azienda che era pronta a prenderlo per un tirocino. Grazie a tutti.